Storie locali, oggi siamo qui per inaugurare la nuova rubrica dedicata al territorio, alle belle storie del nostro territorio e della nostra provincia. Siamo qui alla Libreria Al Cammello, una storia di resistenza, una storia di presidio culturale, una storia di libri, di storie. La Libreria Al Cammello è un presidio straordinario e in questo momento abbiamo deciso, augurandoci anche buone feste e buon Natale, di scommettere, di lavorare e di sostenere le economie locali, le attività locali, i presidi culturali locali. Quest'anno l'Associazione compie dieci anni di attività. È un traguardo molto importante in questo periodo difficile che abbiamo superato grazie all'aiuto dei tanti volontari e al grandissimo sostegno dei michelinesi. In questi dieci anni è stata fondamentale la collaborazione dell'Associazione con le altre realtà del territorio con la biblioteca civica e con l'amministrazione comunale. Così ho conosciuto Diego Sarno, che ha contribuito a fondare questa realtà e continua ancora ad oggi a sostenerla. E allora acquistiamo nei negozi di vicinato, acquistiamo sul nostro territorio e oggi l'abbiamo voluto fare con l'acquisto di libri, perché l'acquisto di un libro significa molto, soprattutto nel costruire comunità in un momento difficile. E quindi oggi costruiamo insieme storie locali, storie di sogni, partendo dal nostro territorio per augurarci buone feste. Quindi un saluto a tutti e vi aspettiamo alla Libreria del Cammello.